Un percorso regionale che parte da Terni, spieghiamo l'importanza degli Stati Generali. L'importanza degli Stati Generali ovviamente non è nell'evento in sé, ma in quello che verrà prodotto grazie al contributo, alla partecipazione attiva, al coinvolgimento responsabile dei vari attori. Gli attori ovviamente non sono solo quelli del mondo associativo, ma sono soprattutto quelli di tutta la realtà istituzionale e della realtà che anima la comunità Umbra in direzione di un modello di sviluppo inclusivo e sostenibile, laddove la sostenibilità non è solo in termini ambientali e economici, ma anche e soprattutto in termini sociali. La vera sfida è avere la capacità e il coraggio di prendere quelle decisioni che mettono le risorse laddove si produce benessere e soprattutto garanzia dei diritti fondamentali delle persone con disabilità. Noi intendiamo dare un contributo, una sollecitazione forte a questo processo, laddove ad oggi i temi della coprogrammazione e coprogettazione diventano temi da praticare nelle decisioni che andranno a incidere sulla qualità della vita dei cittadini Umbri. Convidiamo di riuscire nell'intento di animare un dibattito e soprattutto una capacità di saper fare la cosa giusta nel modo migliore.